Sopravvivere 10 giorni sull'isola di Dino di Praia Mare senza cibo, senza contatti con la terraferma e soprattutto senza tecnologia, a parte una macchina fotografica fornita dalla produzione. E Survivor sull'isola di Dino, l'ultima idea messa in piedi da Matteo Cassiano, amministratore unico dell'isola di Dino Club, per 20 persone selezionate che dal 15 al 25 settembre vorranno partecipare a questo reality show alla scoperta dell'isola più grande della Calabria. Niente cibo, niente sigarette, niente comodità e soprattutto dimenticatevi della tecnologia se non per le macchine fotografiche che documenteranno le giornate dei concorrenti. Uno stimolo che indurrà i partecipanti di tale avventura a dare il meglio di sé, socializzando e facendo spiccare la propria personalità senza trucchi o scorciatoie. Si potranno seguire gli avventurieri attraverso le dirette streaming. Condina prima di tutto il mio impegno nell'utilizzare l'isola di Dino come leva strategica di marketing di un intero comprensorio. Un'idea nata un po' per gioco, un po' per scherzo, proprio il giorno di una sendenza, di notte, in riva al mare all'ombra dell'isola. Quindi un po' per gioco e un po' per scherzo si era pensato a questo reality show dove lo show non viene creato dai partecipanti, ma bensì è l'isola di Dino lo show. Survivor sull'isola di Dino vuole essere un laboratorio di idee nel quale i partecipanti, ognuno con una peculiarità, al termine del format presenteranno un progetto di valorizzazione dell'isola da donare successivamente agli enti locali, che saranno parte integrante dell'iniziativa. Scoprire quello che è veramente un paradiso da scoprire, in diretta streaming, quindi sostanzialmente 24 ore su 24 ci sarà una diretta sui social network, nonché sul web, e sostanzialmente ritengo che dà la possibilità di vivere un'avventura, un'avventura e soprattutto di vivere a pieno l'isola e di sviluppare tante idee da poi elaborare quello che è un progetto, un piano. Abbiamo fatto uno studio, è l'unica, quantomeno un'Italia, iniziativa che consente lo sviluppo e la ricerca di un territorio attraverso appunto un reality show. Grazie a tutti.